Qui abbiamo dialogato con alcuni albergatori che stanno ancora in attesa dei pagamenti che sono stati fatti fino a marzo. La nostra protezione civile si interfaccia con quella nazionale che è competente per l'elargizione di questi fondi. Su l'unie guida fatte dal precedente governo abbiamo sollecitato anche oggi al pagamento di queste altre mensilità restanti.